Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi voglio fare un video diverso rispetto al solito, ovvero voglio fare un gameplay, una run per quanto riguarda il Theater Mechanicus insieme ovviamente a voi, dato che ho letto in giro sui vari Discord e sui gruppi Facebook che frequento che ancora c'è abbastanza confusione per quanto riguarda questo evento. Ovviamente è un evento che per chi ha una familiarità con i Tower Defense non è assolutamente difficile, però capisco che non tutti possono avere le stesse attinenze e quindi di conseguenza può creare un po' di caos e ovviamente un po' di difficoltà per quanto riguarda l'organizzazione delle difese e soprattutto del farming dei punti. Innanzitutto andiamo a parlare con Rujin che è la ragazza che ci permetterà appunto di affrontare la sfida del Theater Mechanicus al costo di una Shaw Lantern che potete vedere lì sopra in alto a destra. Si possono craftare tranquillamente con il metodo in cui vi ho parlato e ve l'ho spiegato nel video precedente del calendario del mese di febbraio. Poi al centro abbiamo i nostri Beneficus Point che saranno a disposizione per poter potenziare e sbloccare le torrette che ci permetteranno di difenderci dalle ordate di mostri. E poi all'estrema sinistra i Peace Talisman, quelli che sono a 260 che ci permetteranno non solo di ottenere gli oggetti all'interno dello shop ma vi ricordo che accumulandone 1000 e successivamente ottenendo i punti Festive Fever avremo la possibilità di sbloccare anche un personaggio 4 stelle tramite l'evento Stand By Me. Una volta fatto questo e aver letto il vario regolamento premiamo il tasto sinistra e ritroviamoci nella nostra Armory, quindi nel nostro scenario per quanto riguarda i nostri equipaggiamenti, per quanto riguarda le nostre armi. Le nostre armi saranno diverse torrette che avremo a disposizione per appunto proteggere o fondamentalmente completare le richieste e avremo praticamente le torrette di tipo Hydro, le torrette di tipo Fuoco, le torrette di tipo Ghiaccio, quindi Crio, le torrette di tipo Anemo che si sono sbloccate soltanto oggi ovvero giorno 11 e non ieri giorno 10 e le torrette di tipo elettrico più un bonus che appunto si chiama Recovery Mechanicus che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. La Recovery Mechanicus sarà molto importante per permetterci di giocare al meglio e vi spiegherò anche come utilizzarle al meglio e soprattutto dove posizionarle nei punti più strategici. Per quanto riguarda le torrette dobbiamo tenere a mente che non tutte le torrette sono uguali e non tutte hanno lo stesso compito. Le torrette d'acqua fondamentalmente non fanno grandissimi danni, fanno dei danni medi, mettiamola così, fanno dei danni medi e hanno un importante ruolo che è quello appunto di infliggere WET a più nemici possibile. Mentre invece la torretta di fuoco è quella che si occuperà di fare più danno, infatti come potete vedere il Base Attack che identifica le nostre torrette abbiamo 1375 al momento per quanto riguarda le torrette di acqua, mentre invece già un 3500 addirittura per quanto riguarda le torrette fuoco. Infatti le torrette fuoco saranno quelle che ci permetteranno di fare più danno al momento iniziale, quindi saranno quelle che ci permetteranno di spingere un pochettino di più con i danni. Quindi è un consiglio che vi do, uppatele il più in fretta possibile. Successivamente abbiamo le torrette di ghiaccio che come potete vedere fanno danni veramente minimi ma che giustamente hanno degli effetti addizionali. Ogni qualvolta la vostra torretta raggiungerà il livello 3 o il livello 5 sbloccherà una passiva bonus. Infatti come potete vedere la mia torretta a livello 4 ha l'effetto corrente di decrescere la velocità dei nostri avversari. Quindi abbiamo la possibilità di ridurne la velocità. Infatti vi consiglio fondamentalmente di portarla almeno a livello 3 anche se un obiettivo che dovrete sfruttare per ottenere peace talisman vi costringerà in un modo a potenziare tutte le torrette. E poi ovviamente divertendovi una volta capito il meccanismo di gioco sono sicuro che potenzierete come ho fatto io praticamente ieri tutto al massimo. Torrette a Nemo che sono state sbloccate oggi quindi ancora non le conosco bene neanche io ma le proveremo insieme. Effettuano dei danni medi quindi 2100 come base attack e gli effetti che abbiamo sbloccato a livello 5 anzi a livello 3 abbiamo un incremento del knockback quindi del rinculo fondamentalmente dei nostri avversari. E successivamente mentre carichiamo pulleremo i nostri avversari con un piccolo AOE quindi come una sorta di burst di 20 se ci fate caso no? Quindi che tirerà se i nemici e poi farà appunto danno in AOE. E poi le torrette elettriche che sono secondo me tra quelle strategiche migliori perché permettono di paralizzare o comunque scioccare tecnicamente il nemico. E quindi paralizzarlo o rallentarlo per quei pochi secondi che poi potremo sfruttare per effettuare danno. Senza considerare il fatto che l'elettricità unito con il fuoco produrrà l'effetto overload quindi una buona esplosione che infliggerà parecchi danni. E poi successivamente unita all'acqua ad esempio potrebbe fare l'electro conduct. Quindi avere la possibilità di fare più danni elettrici a tanti nemici. E con il ghiaccio fare super conduct che ci servirà magari a sfruttare le torrette che sbloccheremo più in là. Come queste qua che sono appunto dei longbow che faranno danni fisici ai nostri avversari. E quindi fare poi super conduct ci aiuterà a fare più danno. Mentre invece quelle da non sottovalutare sono le recovery mechanicus. Le recovery mechanicus vanno sfruttate per ottenere più punti durante le nostre run. Che cosa vuol dire questo? Quando, ve lo dico in parole povere, quando un nostro avversario morirà all'interno del recovery mechanicus. Questo aggeggio ci permetterà di ottenere beneficus point in più. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dovremo sfruttare questo tipo di marchi ingegno per diventare più forti. Per velocizzare le costruzioni e per avere un assetto più offensivo. Ma vi farò vedere tranquillamente quello di cui andremo a parlare. Cioè quello, vi farò vedere poi nello specifico quello di cui stiamo parlando. Allora andiamo indietro e facciamo una attempt. Quindi una nostra run. Si è sbloccata oggi la difficoltà numero 3. Quindi un moltiplicatore di 1.4 punti. Che ancora non ho fatto e quindi voglio fare insieme a voi. Giusto per farvi capire anche come giocare al meglio e come sfruttare al meglio le nostre torrette. Quindi selezioniamo e direi di cominciare. Per quanto riguarda i personaggi io vi consiglio di utilizzare un setup più o meno simile. Elementi diversi di tutti ovviamente i vostri personaggi che abbiano attacchi rapidi. Attacchi rapidi per poter infondere i nostri elementi e poi successivamente sfruttare le torrette per attivare le reazioni elementali. Keia è utilissimo perché ha comunque un elemental skill molto rapida con un raggio mediamente lungo che ci permetterà di infliggere Krio a più nemici possibile. Mona può essere interessante ma così come qualsiasi personaggio acqua anche Barbara va benissimo perché con un semplice attacco elementale infligge già lo status wet ai nostri avversari. Bennett perché ha un elemental skill molto rapida quindi infliggere lo status Pyro ai nostri avversari potrebbe attivare delle reazioni elementali. Come con le torrette elettriche ad esempio produrre un overload e quindi fare parecchi danni. Gian perché possiede un elemental skill che può essere letteralmente sgrava per lanciare i nostri avversari più piccoli al di sotto del burrone. E quindi se avrò la possibilità vi farò anche vedere come sfruttare Gian per chi ovviamente la possiede. Ma detto ciò iniziamo ad entrare all'interno della nostra battaglia. Una volta entrati all'interno della nostra arena la prima cosa da fare è premere il tasto L1 e in giù per vedere quali tipo di nemici andremo ad affrontare. E anche per bloccare il counter perché altrimenti parlo e qui inizia l'ordata e non ho concluso niente. Avremo degli Anemo Slime Irlachur, Heist Shield Mittalchur, Heist Shield Irlachur e dei Cryo Samalchur. Quindi ovviamente le torrette di fuoco qua ci daranno una grandissima mano. Lo stage è lo stesso che ho fatto praticamente fino a ieri quindi conosco benissimo già dove piazzare tutte le torrette. Quindi ottimo vantaggio così vi farò vedere proprio come sfruttare al meglio tutte le torrette. Queste sono le torrette che possediamo con il loro costo perché ovviamente più saranno di livello alto e più costeranno le nostre torrette all'interno del gioco. E ovviamente le Mystic Art non le possiamo ancora ottenere perché saranno dei potenziamenti bonus o delle sfide bonus che potremo completare solo alla fine di ogni wave. E poi le Challenge che saranno ovviamente le rappresentazioni di tutti gli obiettivi che dovremo fare all'interno della nostra run per ottenere sempre più punti. Allora oddio è iniziata lo stesso la wave. Porca paletta! E allora subito qui torretta di fuoco e utilizziamo Jeanne vi faccio vedere subito come sgrava perché ci permette di prendere gli avversari e buttarli giù. Oddio ma io non pensavo che già cominciasse così. Allora mettiamo un'altra torretta a fuoco qua per ora e Amen. Così qua per il momento va bene così. Allora qui sfruttiamo Jeanne ancora una volta. Vedete? La possiamo prendere e gettare gli avversari praticamente al di sotto. Ora la cosa importante qui va bene siamo stati un po' precipitosi perché gli eventi giustamente mi hanno costretto ad essere precipitoso. Ma non è assolutamente un problema i nemici sono molto lenti come potete vedere quindi non abbiamo difficoltà da questo punto di vista. Ora una cosa che ci conviene fare qui è mettere un Recovery Mark. A cosa serve il Recovery Mark? Quello che vi ho detto prima ovvero il fatto di non sottovalutare questi accessori perché vedete ogni qualvolta il nostro avversario viene sconfitto all'interno di questo cerchio avremo la possibilità di ottenere dei punti in più. Ora in questo momento come potete vedere io ho spinto i miei avversari all'interno del cerchio proprio per questa motivazione. Vedete? Io li sto spingendo letteralmente dentro in modo tale che visto quanti punti stiamo accumulando nel momento in cui i nostri nemici vengono sconfitti all'interno del cerchio non abbiamo fatto scappare nessuno possiamo tranquillamente gestire la situazione. Ora abbiamo dei Pyro Slime che dobbiamo fare il Crio Meccanici Range più 10 Electromeccanici Cost ok riduciamo il costo di quelli elettrici ci sarebbe stato un figo anche quelli Hydro ma non è un problema. Allora abbiamo un minuto e dieci in questo momento quindi sfruttiamo mettendo qui un altro Recovery Mark qui mettiamo un'altra torretta di fuoco anche se in realtà il fuoco per il momento non ci serve tantissimo e mettiamo qui un altro Recovery ehi perché non me lo fai mettere? ecco un altro Recovery qui invece mettiamo una bella torretta elettrica così iniziamo a fare un po' di danno in generale qui mettiamo due torrette Acqua qui ci vuole un'altra Recovery e qua se riusciamo... eh no, insufficiente, va bene 14 secondi e via vedete? quando piazziamo le torrette senza contare il fatto che qui abbiamo anche la possibilità di sfruttare il ponte da poter chiudere per impedire ai nostri nemici di avanzare ma la cosa importante è avere la possibilità di occupare tutto il campo o la maggior parte del campo tramite i nostri Recovery Mark i Recovery Mark sono molto importanti perché ci consentono di poter ottenere più Beneficus Point alla volta poi qui se c'è qualche nemico un po' più veloce lo spediamo nella stratosfera ma non c'è bisogno perché le nostre torrette sono già molto forti io le ho potenziate praticamente a livello massimo ieri vedete? cioè stiamo letteralmente shottando i nostri nemici sia tramite le torrette di fuoco che hanno un danno molto elevato le torrette elettriche ci permettono di paralizzare i nostri avversari vedete? le torrette di Yahydro permettono lo status Wet praticamente subito ma qualora anche non fosse stato possibile tramite i nostri personaggi noi possiamo applicare comunque vedete altri status non possiamo fare danno perché non possiamo caricare le Burst ma possiamo tranquillamente infliggere gli status alterati vedete? e nel frattempo le nostre i nostri recovery le nostre recovery mark stanno accumulando sempre Beneficus Point in più altra... uh... Pyro Meccanici 150 più oppure nella next wave each escaped most will result in additional one point lost ok otteniamo... questa è una sfida vedete? le Fearless sono delle sfide che costano zero non ci faranno potenziare ma se riusciremo a completarle ci permetteranno di ottenere dei punti in più allora Crio Crio... ok tutti Crio qua quindi va bene qui direi di... aspetta torniamo indietro direi di fare una bella cosa qua bella proprio aggressiva metterne altre due elettriche visto che tanto siamo... come dire... e qua ne mettiamo un'altra Nemo così vedete che praticamente attira a sé i nemici figa sta cosa così vedo in azione anche le torrette a Nemo e le metto là voglio vedere come... voglio vedere come si comportano e abbiamo raggiunto il massimo di costruzioni che possiamo effettuare vedete già alla Wave 3 abbiamo raggiunto il massimo di costruzioni che possiamo effettuare grazie ai Recovery Mark che ci hanno permesso di ottenere... che ci hanno permesso di ottenere tanto... tanto materiale fondamentalmente vedete come nel frattempo ovviamente i nostri avversari vengono sconfitti anche ripeto perché le torrette sono elevate i maghi possono essere un problema questi maghi possono essere un problema all'inizio del gioco perché giustamente rimuovere anche l'armatura ha un suo costo che noi comunque possiamo fare vedete tramite le nostre Elemental Skill quindi nel momento in cui utilizziamo le nostre Elemental Skill vedete possiamo tranquillamente aiutare le nostre macchine e le nostre torrette a gestire la situazione il mio consiglio è per l'appunto quello di utilizzare elementi diversi vedete un team composto con tutti elementi diversi proprio per affrontare le diverse minacce elementali che si possono trovare nuovo Fearless quindi nuova sfida nella next wave un Ruin Glader will appear random along the path complete this Fearless Challenge to obtain Beneficious Sigil at the end of stage ora ottenere altri Beneficious Point a me non mi interessa perché comunque ne ho già 1.362 ne dobbiamo accumulare altri quindi che cosa faccio mi costruisco un Meccanici in più che è assolutamente utile per quanto riguarda la mia strategia di gioco quindi ne possiamo fare un altro in più qui siamo tutti praticamente pieni a questo punto io ne approfitto e metterei praticamente potrei mettere un'altra torretta qui giusto per ecco mettiamone un'altra fuoco qui giusto per avere magari un doppio fuoco all'interno di questa zona che mi consenta di poter ottenere i nostri punti in più wave 4 su 5 25 mostri a disposizione rimettiamoci qua in modo tale da fare attenzione per quanto riguarda la nostra situazione ecco là vedi effettivamente ci sono i nemici di ecco vedete noi facciamo un piccolo Frozen lasciamo i nostri nemici ok questo l'abbiamo shottato ok perfetto era un attimo preoccupato di più di quello effettivamente ecco qui vedete fate un colpo di Frozen ole la si è tolto qui non è passato perfetto non è passato nessuno ancora facciamo attenzione perché deve arrivare anche il diciamo il boss chiamiamolo così non ho messo torrette di ghiaccio effettivamente non ci ho fatto completamente caso alle torrette di ghiaccio però vedete nel momento in cui abbiamo i personaggi che possono in un qualche modo rimediare all'errore siamo abbastanza tranquilli anche perché le torrette di fuoco fanno un danno che è pazzesco ecco vedete là c'è ancora un altro ma quanto me ne mancano tre nemici che sono rimasti quindi due sono questi quindi due sono questi e ne manca un altro e ne sono scappati zero quindi vedete nel momento in cui muoiono dentro gli Energy Mark otteniamo Beneficus Point in più ah ma già l'abbiamo ah mi sa che era quello la grande quello che abbiamo sconfitto poi vabbè le torrette a Nemo potevo sfruttarle magari in un miglior modo perché vedete come creano questa sorta di questa sorta di knockback continuo quindi in realtà potevo sfruttarle nella maniera migliore Electromeccanici getta 50% damage bonus with each attack crio meccanici no ok potenziamo gli electromecanici è importante anche ottenere Beneficus Point disponibile alla fine di ogni wave perché le Mystic Art costeranno Beneficus Point quindi fate molta attenzione ai punti che spendete durante ogni wave cercate di avere comunque il controllo sempre di tutta la di tutto lo stage perché comunque ecco qui per esempio togliamo un attimo il ponte giusto per accumulare un attimo i nemici e permettere poi di gestirli un po' meglio anche se qua la situazione mi sa che questo passa riesce a passare questo cacchio eh mi sa che questo è riuscito a passare si è riuscito a passare ho sottovalutato la situazione però gli altri non dovrebbero riuscire a passare perché comunque siamo abbastanza forti dal punto di vista ecco vedete noi facciamo sempre danni di tipo ghiaccio facciamo la reazione ghiaccio esatto si ne è passato uno purtroppo ne è passato uno va bene si può migliorare alla fine non è un problema fino a che ne passa uno solo non credo sia tutto questo problema e come potete vedere alla fine della challenge abbiamo la possibilità di vedere il nostro risultato finale e successivamente calcolare il punteggio totale che appunto abbiamo accumulato una volta ottenuti i beneficus point alla fine ovviamente di ogni run abbiamo la possibilità di potenziare le nostre torrette tramite i beneficus point che ci vengono assegnati grazie al completamento e poi ripetere lo stage per continuare a potenziare le nostre torrette e quindi diventare sempre più forti detto questo penso che non ci sia nient'altro da dire anche la disposizione delle torrette vi ho fatto vedere vi ho spiegato come tenere il controllo fondamentalmente dell'arena cercate di sfruttare il più possibile diciamo come si chiamano le recovery quindi le recovery mark che vi daranno punti da spendere all'interno delle run ed evitare di essere sempre a corto di punti la cosa importante è cercate di calcolare dove riuscite a fermare i nemici perché le energy mark vanno inserite dove riuscite a far cadere i vostri nemici quindi nel momento in cui vedete che le vostre torrette riescono a bloccare i nemici in un determinata posizione approfittatene posizionando un energy recovery mark e avere quindi la possibilità di accumulare punti in abbondanza detto questo penso che non ci sia nient'altro da dire spero che il video possa esservi stato utile fatemi sapere come va da questo momento in poi la vostra ascesa nel theater meccanicus io mi sto divertendo veramente veramente tanto quindi mi sa che mi cinfogno veramente tanto su sto evento detto questo vi ringrazio per aver visto ancora il video io vi aspetterò ovviamente sul canale qui e sul mio canale viola che trovate in descrizione per giocare insieme ovviamente detto questo ci becchiamo alla prossima bye bye vi ringrazio Ricord.